Un incontro con l'amministrazione comunale prima che si proceda alla stipula del contratto con la ditta che si è giudicata l'appalto del Piano Aro. È quanto ha chiesto il Comitato per la trasparenza dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti, che torna dopo mesi a far sentire la propria voce. Alla nuova amministrazione il Comitato ricorda alcune clausole che devono essere inserite nel contratto tra il Comune di Sciacca e l'impresa aggiudicataria e che scaturiscono da deliberazioni del precedente Consiglio Comunale. Innanzitutto il fatto che l'eventuale sanzione emessa dalla Regione per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata sia trattenuta dal Comune di Sciacca dai pagamenti nei confronti della ditta, ma anche la clausola che prevede l'eventuale risoluzione del contratto nel caso in cui la sanzione a carico dell'impresa per disservizio in adempienze dovesse essere pari o superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione su base annua. Questioni che il Comune di Sciacca aveva definito come reflui di stampa in sede di giudizio al Tarri di Palermo a seguito del ricorso presentato proprio dal Comitato di cui è portavoce l'Avvocato Stefano Scaduto. A tal proposito viene chiesto che nel contratto sia previsto che l'impresa non abbia nulla a che pretendere nel caso in cui il Tar dovesse pronunciarsi per l'annullamento del piano aro. Infine alla nuova amministrazione viene sollecitato l'inserimento nel contratto della norma a tutela degli utenti dei servizi pubblici, ossia l'obbligo per l'impresa giudicataria di predisporre la carta dei servizi.